Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla videorubrica Scuola con Google. Vorrei chiarire che Google purtroppo non mi dà una lira per questi video, se volessi io sono qui a disposizione. Bene, volevo dedicare questo video alle linee del tempo. È infatti possibile utilizzare uno strumento gratuito come Google, disegni, per realizzare le linee del tempo anziché magari utilizzare delle applicazioni web che magari dobbiamo apprendere, che sono complesse o che pure sono a pagamento. Certo, si tratta di una piccola cosa ma è estremamente utile, basta saperla. Dunque, per creare linee del tempo dobbiamo utilizzare Google disegni. Questo è il percorso, vediamolo da Google Drive. Naturalmente dovete disporre di un account Google e usando questo menu andate su Google Drive oppure usate la casella di ricerca, Google Drive, eccolo qua, e potete accedere anche da qui. Vedete qui, mi dà la possibilità di accedere, vai a Google Drive ed eccoci qua. Io sono già loggato e quindi mi ha dato direttamente Google Drive. Per realizzare una linea del tempo clicchiamo sul pulsante nuovo e andiamo su Altro. Qui vedete la seconda scelta, almeno nel mio caso, è Disegni Google. Vado su Disegni Google e mi si aprirà un disegno. A questo punto, per avere una linea del tempo, devo andare su Inserisci, menu Inserisci, e su Diagramma. Mi compariranno dei gruppi, una raccolta di modelli, griglie, gerarchie e anche cronologie. Andando su Cronologie sono arrivato, qui avrò la possibilità di scegliere tra vari tipi di modelli. Per esempio questo, che è una classica linea del tempo. E come vedete, basta cliccare sul modello prescelto e il disegno appare sul nostro foglio di lavoro. Prima di procedere, possiamo riflettere sulle linee del tempo o timeline. Bene, c'è un errore, almeno a mio modesto avviso, che si intendono le linee del tempo come rappresentazioni cronologiche. Abbiamo visto che anche Google chiama cronologia il modello delle linee del tempo. Cioè, come strumenti per dare una rappresentazione grafica di, per esempio, di un evento storico, di una biografia. Insomma, il tutto legato a una scansione cronologica. In realtà, però, con una linea del tempo, possiamo rappresentare qualsiasi tipo di processo. Qualsiasi evento che si articola, si sviluppa nel tempo. Possono essere le fasi di un esperimento. Può essere un fenomeno fisico naturale, che so, il ciclo dell'acqua. Può essere l'intreccio, la trama di un film, di una fiaba, di un romanzo. Può essere, che so, un viaggio di istruzione. E quindi anche quello si sviluppa nel tempo. E possiamo documentarlo con una linea del tempo. I vantaggi, i vantaggi in generale delle linee del tempo, in particolare di Google, disegni, diagrammi, linee del tempo, sono che è gratuito, ovviamente. Ci sono ovviamente altri strumenti gratuiti per le linee del tempo, anche Office Online, Adobe, forse ha qualcosa. E poi è molto semplice, come vedete è già tutto pronto. Inoltre, possiamo in modo molto semplice condividere il risultato, o addirittura far sì che siano gli studenti, collaborando tra di loro, a realizzare una linea del tempo. Bene, vedremo tutte queste funzionalità fra un momento. Come vedete, ogni elemento della linea del tempo, che è divisa in quattro step, in quattro fasi, è formato da vari altri elementi che io posso selezionare. Per esempio, qui posso selezionare il testo e cambiare il testo. Ovviamente dispongo di tutti gli strumenti di formazione, per cui posso, che ne so, cambiare il colore del testo, oppure posso inserire uno sfondo, e così via. Tutti gli elementi hanno questa caratteristica. Ogni singolo elemento, per esempio questo pallino, vedete, posso selezionare il pallino e cambiare il colore del pallino. Posso questa linea selezionarla e cambiare le sue dimensioni o il suo colore, adesso andando a caso con risultati grafici pessimi. Posso inserire qui una data, 2019. Posso cambiare il colore di ciascuna di queste, basta selezionarla, vedete, e posso cambiare il colore. Andiamo a caso. Ecco, come vedete, è molto semplice modificare tutti gli elementi della linea del tempo. Questo vale per questo modello, ma anche per gli altri modelli che avete intravisto sulla destra. Vedete, anche questi modelli, andiamo sulle linee del tempo, si modificano allo stesso modo. Ovviamente posso fare anche altre cose, posso spostare un elemento, vedete, seleziono, e sposto. Ctrl-Z, torniamo al punto di partenza. Come vedete, gli strumenti di cui dispongo sono simili a quelli di Google Documenti, di Google Presentazioni. Per esempio, posso inserire delle immagini. Immaginiamo che questa sia una timeline sulle scoperte geografiche. Andiamo su, per esempio, Caravella. Ci procuriamo il link a Wikipedia. E poi vediamo una caravella, ecco questa, per esempio. Ecco, abbiamo la Caravella, adesso la col mouse trascino sopra il mio disegno e rilascio. In questo modo abbiamo questa enorme Caravella che provvederò a rimpicciolire e a sistemare nell'area del disegno. Facciamo ancora un po' più piccola. Ecco qua, adesso non ci interessa l'efficacia, veramente non lo schifo questa presentazione. Posso anche, vedete, inserire dei link. Questo è molto utile. Per esempio, posso documentare, abbiamo detto prima, un viaggio di istruzione o un evento che è avvenuto a scuola, che sono a giornata sportiva, teatrale, e inserire i link alle foto che ho provveduto a fare o che ho incaricato gli alunni di eseguire per documentare appunto la giornata. Che so, seleziono, non so, andiamo qui, scriviamo Caravella, seleziono e, come si fa sempre con Google, clicco su inserisci link e incolliamo qui il link, ah no, chiedo scusa, devo chiaramente copiarlo, il link della Caravella e applico. In questo modo, vedete, la linea del tempo diventa una linea del tempo ipertestuale, oltre che multimediale, perché posso inserire immagini, posso rimandare al link di un video, di una pagina o un articolo sul web, di una pagina di Wikipedia, eccetera. Che altro si può fare? Si può modificare lo sfondo, per esempio, vado su sfondo e seleziono uno sfondo qualsiasi. Torniamo a una visualizzazione, a uno zoom 100, ecco questo, come vedete, la linea del tempo che ho realizzato. A questo punto, passiamo alla fase finale, e cioè, scarichiamo l'immagine, per esempio. Posso, infatti, andare su File, Scarica, vedete, qui ho la possibilità di scaricare un'immagine JPG, ecco qua, l'immagine è scaricata, questa è l'immagine che ho appena scaricato, se è reputo insoddisfacente, è questo, perché ho dei link, per esempio, che voglio che funzionino e in un'immagine non funzionano, allora posso condividere il documento e dare il link agli studenti. Diamo un titolo al nostro documento, scoperte geografiche, vediamo questo apostrofo che è venuto fuori, e in questo modo, vedete, io posso ottenere un link condivisibile. Questo link lo copierò e lo darò agli alunni con WhatsApp, con Edmodo, con il modo in cui siete abituati a comunicare con gli studenti. Posso fare anche di più, posso assegnare a vari studenti, ritorniamo all'esempio del viaggio di istruzione, per esempio, la documentazione dei momenti più significativi del viaggio di istruzione, che sono la visita alla fattoria didattica, quegli altri invece il pranzo, quegli altri ancora abbiamo esplorato il bosco, ecco, ognuno documenterà con una timeline le varie fasi di questi eventi in cui si è articolato il viaggio di istruzione. In che modo? Con la funzione di condivisione, però selezionando, anziché chiunque abbia il link può vedere, chiunque abbia il link può modificare. Quindi io posso creare il modello della linea del tempo, semplicemente utilizzando il modello predefinito che trovo in diagrammi e linee del tempo, anzi cronologia, e poi creare, se ho tre gruppi di studenti, tre linee del tempo vuote e assegnare, vedete, ai miei studenti, naturalmente almeno uno deve possedere una mail, assegnare, o comunque posso copiare il link e dare il link, oppure se hanno la mail, insomma, inviarglielo via mail. Bene, questo è tutto. Si tratta, come dicevo, di una piccola cosa che però può tornare utile in tante circostanze, in tante discipline e in tante attività. Vi saluto, vi ringrazio e buona giornata. Vi saluto, vi ringrazio e buona giornata.